Sul lungomare di Roseto è stato avviato un importante intervento di prevenzione degli allagamenti grazie a un finanziamento di uno dei 5 milioni di euro ottenuti dalla precedente amministrazione comunale e confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tuttavia i fondi non sono sufficienti a coprire tutti i lavori in programma sul territorio che richiedono una serie di modifiche progettuali per adeguarsi al nuovo prezzario regionale, entrato in vigore quest'anno e che ha comportato un incremento dei costi. Per questo motivo l'amministrazione comunale è dovuta ricorrere a una serie di modifiche per permettere la conclusione dei lavori. È una zona che molto spesso era soggetta a gravi allagamenti durante anche delle piccole piogge quindi è un intervento atteso da oltre 20 anni perché ricordo quegli allagamenti da quando ero piccolo quindi è un intervento importante, proseguono anche altri interventi di rischio idraulico-idrogeologico su tutto il territorio, nella frazione di San Giovanni, via Colle, Costelanciano che la perizia appena approvata permetterà la conclusione dei lavori e la realizzazione dell'asfalto sull'intero tratto. Insomma un'amministrazione che anche nel 2024 porta avanti i tanti cantieri sul territorio, 42 milioni di euro di opere pubbliche e ovviamente c'è tanto da fare e tanto da lavoro. Quando finiranno i lavori nella zona sud? Nella zona sud sono previsti 60 giorni di lavoro ma ovviamente stiamo andando più rapidi rispetto al cronoprogramma. Ma risolta una problematica se ne apre un'altra. Nella frazione di Cologna Spiaggia si è verificata sul lungomare una nuova rottura della pavimentazione e questo a causa dell'erosione che va avanti oramai da diversi anni. Lì già ci siamo mossi in anticipo già lo scorso anno nel reperire ulteriori somme a disposizione dell'ente che dovremmo avere l'accredito da parte di Regione Abruzzo a breve e questo permetterà di intervenire nell'area soggetta purtroppo ad un problema di mareggiate eccetera che ha danneggiato appunto il lungomare.